Affrontare la permacrisi mettendo in atto tutte le strategie utili a superare le emergenze che mettono in ginocchio le imprese del settore terziario in Sicilia e questo l'ambizioso programma della Due Giorni organizzata dal sistema regionale di ConfCommercio al Verdura Resort di Sciacca che inizierà oggi pomeriggio per concludersi domani con il momento istituzionale alla presenza dei vertici di ConfCommercio e di diversi assessori regionali tra cui Elvira Amata, Alessandro Aricò ed Edita Maio. Primo giorno dopo l'introduzione di Vincenzo Costa, direttore di ConfCommercio Sicilia, dedicato al lavoro e welfare, strumenti normativi, approcci strategici, etica e imprenditoriale e pagamenti digitali. Due giorni intensi di lavoro, ha spiegato in presentazione il presidente regionale di ConfCommercio Sicilia Gianluca Manenti, utile ad affermare la centralità della Sicilia nel futuro del Mediterraneo. Al centro del secondo giorno, dopo le relazioni e gli interventi degli esponenti istituzionali presenti, dedicato proprio all'area mediterranea, con particolare focus su turismo, sociale e trasporti. Un confronto sociale, economico e culturale che, è l'auspicio dei vertici dell'associazione, può essere utile per rispondere a quei eventi di crisi che già montano all'orizzonte per l'isola.